All'inizio tutti pensavano si trattasse di uno scherzo e invece la pasta dentifricia del miracolo non ci ferma nessuno sta davvero cambiando la vita di tanti studenti e non lo dico io siamo andati a curiosare e guardate un po', guardate un po', sentite che cosa abbiamo scoperto Ricordi quando prendevo tutti i 18? Gli esami era un disastro, adesso ho fatto una scoperta Come hai fatto? Dile a me! Da quando uso questo dentifricio? 30 e pure con la lode, fra un po' pure la laurea Ma con Samantha com'è andata a finire? Eh purtroppo non l'ha lasciato, ricordi? Sì, sì mi ricordo Ma ora che uso il dentifricio non ci ferma nessuno, mi riscrive, si vuole sentire di nuovo con me, dice che è innamorata Ah sì, lo dovrei usare pure io Ragazzi ho scoperto la cosa più bella che c'è in Italia Davvero? Ah sì, il colosso è bello, la pizza è buona però questa è la cosa più meravigliosa Ah sì Ciao Don! Oh carissimo! Che ci fai qua? Eh, ho perso il telefono prima in lezione e ora ero venuto a chiamare qua Non lo trovo più L'ho trovato io E come hai fatto? Non eri con me prima? Da quando uso il dentifricio non ci ferma nessuno, ho un fiuto impallibile Allora mi sa che lo devo usare anch'io, è utile Te lo consiglio Va bene, grazie Quindi abbiamo le prove, questo nome riecheggia un po' dappertutto Anche loro lo dicono, di che cosa si parla a Cosenza? Beh ovvio del dentifricio non ci ferma nessuno Del dentifricio non ci ferma nessuno Del dentifricio non ci ferma nessuno Ragazzi, non ci ferma nessuno, il dentifricio sulla bocca di tutti e anche sui sorrisi di tutti Ciao Ciao